Oh mamma mia Che ordino sempre roba così pesante Allora Innanzitutto Ciao a tutti Come avete visto dal titolo siamo qui ancora con un altro unboxing E abbiamo tre bei pacchetti Uno addirittura è un bancalino E i più attenti di voi Avranno già visto un marchio Prima di andare a vedere che cosa contengono i pacchi Lasciatemi ringraziare Manomano.it Che è lo sponsor del canale Che per chi ancora non lo sapesse Si tratta di un e-commerce che vende più di 300.000 prodotti Per fai-da-te e giardinaggio E che vuole rendere il fai-da-te accessibile a tutti Ed è per questo che aiuta Gli youtuber come me a realizzare Dei video per tutti Quindi grazie ancora Manomano per Tutto la fiducia e tutto il lavoro che Riponete nei miei confronti E ora andiamo a vedere che cosa contengono Questi bei pacchetti Iniziamo Da questa parte Eccola qua Questa è una bobina di filo animato Che ovviamente andrà utilizzata Sulla saldatrice Che supporta questo tipo di filo E chi non si è ancora accorto di cosa contiene In questo pacco dirà Ma tu Paolo Hai solo una saldatrice di elettrodo E da oggi probabilmente no Sapete che la saldatura Non è tra i miei interessi preferiti Però uno youtuber E un mio grande amico Mi ha detto Un giorno La saldatrice non può mancare Nel laboratorio di Un maker che si rispetta E allora consigliato da Da questo stesso Mio amico Ho deciso di prendere questa Che è La stessa che ha lui Oltretutto Ora vedete che addirittura Me l'hanno bancalizzata Sotto abbiamo un bancalino Per il trasporto Quindi questo comunque Lascia intendere che La vita con la quale Ho già avuto rapporti Tra l'altro In un passato Che è una vita che ci tiene Infatti non ho mai avuto problemi Se poi vi interessa Il venditore Lo faccio anche sapere A chi interessasse Nei commenti Addirittura le assi di panetta Anche sopra Per poterle Chi mi conosce Sa che riciclerò anche queste È un signore imballaggio Ragazzi Ok Vediamoci dietro E lo farò cadere Secondo che non mi serve Eccola qua E finalmente Ce l'abbiamo fatta Ad aprirla Si troneggiano Imancabili Le istruzioni Oh ma questa Io non lo sapevo C'è anche la maschera Inclusa Io pensavo Non ci fosse Perché dalla descrizione Non era menzionata Invece c'è anche la maschera Io vabbè Ho già quella Dell'elettrono A questo punto Meglio averne una in più E poi vediamo Cosa altro c'è Forse i vetrini Della maschera Probabilmente Ok Eccola qua Si legge Non si legge Deca Starflux 130 Ampere No gas Con la sua bella torcia Qui ho intravisto Che C'è La pinza di massa È già montata C'è anche una bobina Di filo animato Da 0,90 0,9 questa E 0,9 È anche quella Che ho preso io Ho preso questa attrezzatura Perché a breve Dovrò realizzare Una collaborazione Per la quale Ovviamente Non vi anticipo Chi sarà L'altro youtuber A collaborare con me Perché sarà una sorpresa Mi posso anticipare solamente Che è una persona Che stimo moltissimo E che è un grande Dal fai da te E quindi dicevo Avremo questa collaborazione Dove Saranno richieste Diverse saldature E allora Mi è sembrato il caso Di non farmi trovare Impreparato E quindi Recuperare L'attrezzatura necessaria Affinché il progetto Riesca al meglio E quindi Oltretutto Prima di Questo utilizzo Ovviamente Ci sarà anche Un videotest Di questa saldatrice E anche qui Ho in servo Qualche sorpresina Per voi Seguitemi Perché ci sarà Anche nel videotest Ci sarà qualcosa Di particolare Ora passiamo All'ultimo Qualcuno avrà Già notato Il marchio E ecco qua Che sbuca fuori La batteria Da 20 volt 2 ampere Del Trotec Che mi mandò Tempo fa Sempre Mano mano Sempre nel Progetto Nella collaborazione Che arriverà Fra un po' di tempo Sul canale E' coinvolto Anche lui E quindi Ho preso Una batteria Di ricambio Voi poi capirete Il perché Se vi interessa La recensione Del Trotec La trovate Sempre sul mio canale Questa è arrivata Già carica E' perfettamente Funzionante A chi interessasse Sapere qualcosa Del Trotec A distanza Di un po' di tempo Di utilizzo Adesso non mi ricordo Quando l'ho preso Però è già Comunque un po' Che l'ho Maltratto Si comporta bene La batteria Non Tiene tantissimo Ma è comunque Una batteria Da 2 Ampere E se uno Lo sfrutta Un po' tanto Non è infinita Come carica Ovviamente Però visto che Nel momento in cui Io lo vado a utilizzare Come un comune Ubbista Si comporta molto bene Quindi se uno Non lo usa Come strumento principale L'abitatore Può comunque andare A una singola batteria Per chi lo acquista Comunque consiglio L'acquisto della seconda Perché comunque Fa sempre comodo Anche solo perché Nel momento in cui Vi serve Sarà Molto probabilmente Scarica E quindi È sempre bene Averne una discorta L'unica cosa Che ho notato A differenza Di altri abitatori Professionali Che magari Io ho qui In laboratorio Per citarvi un esempio Da niente Questo abitatore Della Milwaukee L'unica cosa Che ho notato A distanza Di un po' di tempo E un po' di maltrattamenti Perché comunque Lo vedete Nonostante non ce l'abbia Da molto L'ho comunque Già abbastanza usato È che L'albero Del mandrino Ha un leggero gioco E utilizzandolo come Abitatore Il problema Non si pone Più di tanto Ma utilizzandolo Come trapano Se dovete fare Fuori di precisione La cosa Un pochino Ne risente Cosa che invece Su un abitatore Professionale Come questo Vedete che Nonostante Dopo anni e anni Di utilizzo Lui è ancora Perfettamente fermo Come quando È uscito Dalla fabbrica Però È anche vero Che stiamo parlando Di due abitatori In una fascia di prezzo Decisamente Diversa E quindi Non è neanche Corretto paragonarlo Perché fondamentalmente L'abitatore non nasce Come strumento Di precisione Quindi Secondo me La qualità di prezzo Vale ancora comunque La pena Acquistare il Trotec Vediamo Cosa abbiamo All'interno Dello scotch Nei vetrini Forse è il caso Che faccio Nei vetrini Devo fare davvero Un applauso Al venditore Perché Ha imballato Direi decisamente bene È difficile Che io faccia Complimenti a qualcuno Però in questo caso Devo proprio farli Perché Si no Decisamente La cura Nell'imballaggio La saldatrice Sembra funzionare Sembra In perfette condizioni Anche di buona fattura Io come avrete già visto In altri video Ho una Deca D'elettrodo E quindi Diciamo che Comunque sia Marchio Deca Mi ha sempre ispirato Fiducia E non mi ha mai deluso Ho deciso di optare Anche per Per questa Filo Sempre per la Deca Speriamo di aver riposto Bene La mia fiducia Quindi Come ho detto prima Seguiranno Il video Poi Del test Della Deca Quindi Per chi fosse interessato L'acquisto Non perdetevi assolutamente Il video Perché Ho intenzione Di Di testarla A dovere Detto ciò Ringrazio ancora Manomano.it Per sostenere il canale E soprattutto Ringrazio Anche tutti gli iscritti Che credono in me E credono Nel mio lavoro Un saluto da Paolo Brada E buon fai da te A tutti